Tendiamo anche a scambiarci molte idee e a condividere casi clinici che possono essere un po' difficili nella gestione. Uso Twitter a scopi principalmente professionali, sia per quanto riguarda l'aggiornamento personale, infatti seguo le maggiori riviste cardiologiche, sia per quanto riguarda la mia attività di collaborazione con la Società Europea di Cardiologia. Faccio infatti parte della social media network della stessa e quindi mi occupo della promozione della Società Europea di Cardiologia e delle sue iniziative e sono social media editor dell'European Journal of Preventive Cardiology, della cui promozione su Twitter mi occupo insieme ad un altro collega. Ci sono sicuramente delle differenze nell'uso di Twitter tra noi giovani e i meno giovani. Noi giovani tendiamo oltre a promuovere ovviamente la nostra ricerca, oltre a tenerci aggiornati con le principali riviste cardiologiche, tendiamo anche a scambiarci molte idee e a condividere casi clinici che possono essere un po' difficili nella gestione. I meno giovani ovviamente tendono ad utilizzarlo di più per l'autopromozione. Non dico questo con critica, ma è un dato di fatto secondo me. Poi ci sono ovviamente le eccezioni. Credo che cambierà la medicina più che altro a livello di diffusione della ricerca. Gli stessi giornali dovranno probabilmente pensare a un nuovo modo di promuoversi su Twitter. Soprattutto adesso si utilizza un metro di giudizio dei giornali che non tiene conto dell'impatto che questo ha sui social media e questo dovrà essere cambiato in futuro. Come hashtag consiglio sicuramente CardioTwitter, che è l'hashtag principale, ma anche CardioEd per tutte le attività educazionali che vengono promosse su Twitter dalle varie società. I profili da seguire, a mio parere, sono sicuramente quello della Società Europea di Cardiologia, di cui faccio parte, ma anche delle altre società cardiologiche come l'American Heart Association e l'American College of Cardiology. I profili professionali singoli varieranno in base ai propri interessi, per cui un cardiologo che si occupa di imaging magari vorrà seguire la Chiara Bucciarelli-Ducci in risonanza magnetica o il professor Badano in ecocardiografia. Chi si occupa invece di emodinamica magari vorrà seguire Mamas Mamas, che è un emodinamista.